Quando i carabinieri hanno bussato alla sua porta di certo non pensava che avrebbero puntato direttamente al giardino e invece i militari che da qualche tempo monitoravano l'abitazione del 33enne Moldavo da anni residente a Sonara sono andati dritti verso il giardinetto esterno dove insieme ad altre piante hanno trovato un piccolo boschetto illegale con ben 15 piante di cannabis alte fino a 2 metri. Da qualche tempo infatti i carabinieri avevano notato movimenti strani in quella zona e avevano iniziato a monitorare la situazione avviando un'indagine insieme alla procura di Padova. I carabinieri di Legnaro durante la perquisizione hanno trovato anche una grossa quantità di semi pronti per essere piantati. Il 33enne Moldavo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti mentre le piante sequestrate sono state inviate al laboratorio tossicologico per le analisi.